La compagnia Carabinieri di Livorno ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di una donna 37enne livornese gravemente indiziata di aver compiuto 50 tra furti, ricettazioni e di debiti utilizzi di strumenti di pagamento. Ammontano ad oltre 10.000 euro i proventi delle attività illecite compiute tra la fine di settembre e l'inizio di gennaio di quest'anno. La donna avrebbe compiuto reati quotidianamente dimostrando grande spregiudicatezza.